Partite! Partite Closio Rice che prova a gestire dopo lo strappo iniziale. Sladina ha trovato un buon posto mettendosi in seconda. Al terzo lo steccato Abiona che precede in giù batuta rossa la pulce d'acqua. Poi Mantalic che segue al quinto posto con all'interno Lorenda e Ugubina che gradualmente si porta a centro gruppo avendo scavalcato abbronzatissima. Poi ancora a knockdown e sempre a chiudere Avamecca. Queste le posizioni con Closio Rice che sta imponendo andatura costante alla corsa. Sladina è sempre in seconda posizione. Le due seguite dalla pulce d'acqua che all'interno Abiona. Poi ancora per via interna si mantiene Lorenda. Di fuori a tutti è Ugubina che subisce l'anticipo di Mancalic. Poi ancora a knockdown più dietro Avamecca insieme ad Abbronzatissima. Questa è la posizione con le cavalle che entri in retta del rivolto. 100 metri che vedono sempre Closio Rice in vantaggio con Sladina a suo esterno. Al terzo posto si sta portando gradualmente Abiona. Poi la pulce d'acqua a largo e Ugubina insieme a Mantalic con Sladina che rompe l'indugi. Passa di prepotenza su Closio Rice. Abiona che si mantiene in seconda posizione. Poi la pulce d'acqua abbronzatissima a largo di tutte. Si fa sotto anche Mantalic. Sladina che è in vantaggio. Lorenda che si concretizza al suo attacco. Le due in aperta lotta nei confronti di Closio Rice all'interno sul passo. Poi Abiona e le altre che faticano a intervenire. Sladina che riparte una volta che si è vista avvicinata da Lorenda. Sladina che allunga su Lorenda, Closio Rice e Abiona. Nell'ultimo tratto ancora Sladina che ha un paio di lunghezza su Lorenda e le amministra comodamente. Sladina vince l'incisa. Lorenda è secondo al terzo sorpresa Abiona nei confronti di Closio Rice e poi tutte le altre.